Assessore, sono state sollevate una serie di criticità, potrà essere modificato questo PDTA e si potrà migliorare il sistema di cura della sclerosi multipla? Io credo che quanto sia stato fatto con la collaborazione dei clinici sia veramente un passaggio epocale. Le criticità che oggi sono state espresse sono criticità definite in un ambito assolutamente di confronto costruttivo che porteranno il comitato che è stato definito all'interno del provvedimento assessoriale a stabilire un percorso per il superamento delle stesse. Si tratta naturalmente di una necessità di implementazione continua del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale ma soprattutto di una collaborazione sempre più proficua tra i nodi della rete che sono stati individuati e per i quali naturalmente necessitano degli aggiustamenti di tipo organizzativo per cui sicuramente chiederemo alle direzioni aziendali di avere una particolare sensibilità nell'organizzazione delle loro aziende per quei centri che naturalmente poi costituiscono il fiore all'occhiello dell'azienda stessa perché si rivolgono a pazienti che hanno una certa complessità e che quindi trovano in quei centri la risposta ai loro bisogni complessi. Ricordiamo che la sclerosi multipla è una delle patologie neurodegenerative che costituisce la seconda causa di disabilità nella popolazione della nostra regione, nella regione giovane e meno giovane perché purtroppo è una patologia dall'esordio anche piuttosto precoce e quindi è necessario che ci sia un'assoluta presa in carico non tardiva perché poi si possa ridurre il grado di disabilità e quindi dell'onere assistenziale che ne deriva. Una serie di criticità sono state sottolineate però è un percorso di crescita per il sistema di cura? Assolutamente sì, si è parlato chiaramente in maniera schietta con il nostro interlocutore, l'assessorato abbiamo sentito delle importanti affermazioni ed una disponibilità che è crescente rispetto alla popolazione siciliana che presenta ancora oggi non solo punti di eccellenza ma anche qualche ombra e su questo stiamo lavorando molto per acquisire maggiore disponibilità per i pazienti e per le loro famiglie. Ricerca e attenzione al paziente sono il vostro mission? Indubbiamente, principalmente l'attenzione perché sicuramente vogliamo che le persone abbiano riconosciuto il sacro diritto di curarsi, di scegliere ma eventualmente di avere la stessa opportunità ovunque risiedono. La ricerca perché penso che la fondazione avendo finanziato un botto di milioni di euro negli ultimi 10 anni sulla ricerca ha fatto veramente la differenza ma ha permesso che in Italia tutte le sperimentazioni potessero essere portate a buon fine e quindi il paziente della regione Sicilia principalmente non essere penalizzato ed aspettare che prima si facessero in altri stati poi al nord e poi al sud. Sicuramente un altro passo importante che la fondazione ha fatto è quello di finanziare il progetto di ricerca sui gravi affinché si dia una maggiore attenzione a questa fascia che è molto importante perché incide per il 30% sul totale della popolazione che non avendo terapie che rispondono sono spesso abbandonate a se stessi e quindi vogliamo veramente in atto c'è a Catania il progetto Pensami che dovrebbe cominciare a delineare le vere risposte da poter dare a queste persone non abbandonando poi eventuali terapie che domani potranno dare anche risposte migliorative a quello che è lo stato della salute del proprio paziente. State pensando anche a un registro? Sì, il registro regionale che sarà finanziato nella fase di partenza e dell'avvio da parte della fondazione italiana Sclerosi Multiplo il professore Battaglia l'anno scorso si è impegnato, lo ha portato a budget e ce lo ha comunicato e penso che giorno 5 lo ufficializzerà insieme all'assessore. Un registro che vogliamo a tutti i costi che dia non soltanto dei datati ma che veramente faccia la reale mappatura della popolazione colpita che sono oltre 6.000 in Sicilia ma che dia anche tutte quelle notizie importanti affinché ci sia un vero scambio fra i centri e fra la comunità scientifica.